Un progetto di design che riprende il racconto del Salento dal suo passato verso il suo futuro, rievocando l'immagine dei vecchi telai da cucire a materializzarsi in una nuova ideale macchina del fare che dovrà tessere la storia futura del territorio. Si chiamano Eutopias Tables, i due tavoli progettati dal gruppo Foresta e prodotti in collaborazione con cinque aziende salentine per essere donati ai sindaci di Lecce e Brindisi, Paolo Perrone e Mimmo Consales, legati nella corsa alla candidatura della città barocca a Capitale della Cultura 2019. I colori sono il verde, oliva e il suo argento. I due tavoli raccontano la posizione geografica del Salento, le sue distanze disegnate sul piano di cristallo con il fitto sistema a bilanciere di cavie e carrucole a rievocare i tanti flussi materiali e immateriali passati, presenti e futuri. Le nostre nonne affidavano ai figli la speranza di un corredo per le generazioni future. Nello stesso tempo questo tavolo racconta questo, ma racconta anche i figli e le traiettori di una terra ordinariamente prolungata del mare, che è una terra di speranza, di arrivo oggi più che mai. Il tutto si è maternizzato in questo oggetto di design, che diventeranno le scrivanive dei due sindaci di Lecce e Brindisi, dove un nuovo tavolo di lavoro della modernità tesserà i fidi per lo sviluppo futuro di questo territorio. Grazie.